bene ragazzi vediamo la tavola 40 come svolgerla allora questa che vedete è la tavola 39 che è l'ultima che abbiamo fatto che è appunto la proiezione ortogonale di questo solito che sarebbe così la schematizzazione tipo di un edificio un piccolo edificio con due falde con un volume rettangolare sovrastante questa è la tavola 39 che l'abbiamo già svolta adesso per la tavola 40 faremo la proiezione assonometrica la tavola la divideremo in due parti eccola qui divisa a metà sopra faremo l'assonometria cavaliera e sotto l'assonometria isometrica esattamente dello stesso solito la vediamo come procedere iniziamo oggi con l'assonometria cavaliera allora ricordo l'assonometria cavaliera gli assi sono inclinati di 30 e 60 gradi rispetto diciamo così alla linea orizzontale il che significa che l'oggetto che andremo a rappresentare diciamo sul piano orizzontale orizzontale chiamiamolo così mantiene gli angoli di 90 gradi quindi non è assolutamente deformato allora la prima cosa che dovremmo fare è riportare diciamo così sul piano XY esattamente la vista che nell'altra tavola era quella del PO eccola qua questa vista qui che vedete deve essere riportata con lo stesso orientamento lungo l'asse X e lungo l'asse Y quindi di fatto inclinata di 30 o 60 gradi a secondo da quale parte decidiamo di ragionare una volta fatto questo la prima cosa che faremo incomincieremo a fare a tirare le altezze allora iniziamo dal solito diciamo così quello che simula un piccolo edificio riportando le altezze di 3 cm sui punti più bassi questo qui si chiama normalmente linea di gronda e 4 cm per il punto più alto questo qui che tracceremo dopo si chiama linea di colmo occhio che nella parte retrostante tireremo le due linee di 3 cm non soltanto nel punto iniziale e finale del solito ma anche nei due punti di intersezione ok? in questi due punti ci sarà diciamo questa altezza dopodiché andremo avanti e tracceremo l'ho disegnato in magenta viola le linee di altezza del solito più alto rettangolare che sta sopra che è di 4 cm e 5 cm bene in questo modo abbiamo praticamente tracciato tutte le altezze adesso incominciamo a collegare tra di loro le linee allora iniziamo facendo diciamo così l'inizio e la fine di queste due falde diciamo così quindi uniamo il punto alto 3 con il punto alto 4 mi sembra un attimo che controllo quant'era l'altezza era 4 eccolo qui 3 e 4 ok? quindi 3 e 4 e 3 e li unisco è la stessa cosa dall'altra parte 3 e 4 e 3 li unisco adesso incomincio a fare le linee nell'altro verso eccole qua quindi unisco diciamo così traccio la linea di gronda si chiama così la linea di colmo la linea di gronda e chiudo anche il volume sovrastante allora fatto questo in realtà la sonometria potrebbe sembrare finita però rimane un problema da vedere che è appunto quello dell'intersezione tra questi due solidi e su questo adesso dobbiamo andare a ragionare prima di tracciare le linee diciamo così nascoste le linee che sono in primo piano allora la prima cosa che faremo vedete qui torno indietro avevamo tracciato questa linea che era diciamo così la linea che era la base di intersezione qui il tetto ci avrà una stessa inclinazione del punto iniziale della falda quindi se io prendo con le squadrette faccio una parallela di questa linea passando per questo punto ottengo questa linea qui faccio la stessa cosa sotto tenendo conto però che in realtà questo solito lungo non arriva fino alla fine ma rimane un pochino prima però per adesso la posso tracciare anche lunga allo stesso modo questo chiaramente lo devo fare sia nella parte davanti che anche nella parte dietro del solito ovviamente qui la situazione non sarà questa ma sarà questa qua quindi posso o cancellare o proprio non tracciare queste due linee e chiudere questa parte qui in questo modo io praticamente ho tracciato tutte le linee che sono le intersezioni tra i due soliti adesso devo ragionare un attimo su quali questi quali sono gli spigoli quali sono nascosti e quali sono in primo piano allora inizio proprio facendo questo lavoro della parte dell'intersezione quindi diciamo così la parte sopra sono tutti i spigoli ovviamente la parte più alta di tutto quanto il disegno continui dopodiché davanti avremo questa situazione qui che è sempre la parte di solito che emerge nell'intersezione tra i due solidi queste due linee saranno davanti linee che rappresentano spigoli in vista dietro saranno sempre spigoli ma nascosti andando ulteriormente avanti vedete tracciando questa linea di gronda della parte retrostante e questa sarà uno spigolo che in piccola parte qui come vedete sarà nascosto fatto questo che diciamo così che è la parte diciamo più complessa possiamo definirla così dell'oggetto il resto diventa abbastanza semplice perché possiamo completare il disegno con gli altri spigoli nascosti o spigoli in primo piano attenzione a quello che avviene dietro perché dietro questa linea di gronda che c'è dietro in parte questo tratto qui non dovrà essere ripassata perché quella non è più uno spigolo ma è una parte che sta all'interno del solito più grande cioè praticamente gli spigoli sono le parti che stanno fuori da questo solito rettangolare che diciamo così sovrasta l'edificio bene quindi questo qui è la costruzione della tavola 40 della prima parte della tavola 40 poi la prossima volta faremo la stessa cosa sotto per la sonometria isometrica grazie Grazie.